Questa è una delle chiese più straordinarie delle testimonianze del Settecento napoletano. Ha una genesi seicentesca, ma nel 1700 viene completamente rivisitata, ridisegnata dal Domenico Antonio Vaccaro, che si occupa dell'impianto decorativo, sia delle tele stupende che sono inserite nel cassetto nato di questa chiesa, sia la pavimentazione, oltre ad un arricchimento dell'intero apparato decorativo. Questa chiesa è rimasta chiusa per molti anni, purtroppo, perché c'erano dei problemi legati alle infiltrazioni che provenivano dalla copertura e che grazie all'importante contributo della sovrintendenza, beni archeologici e artistici del paesaggio del Comune di Napoli, è intervenuta con un significativo intervento di messa in sicurezza, che ha fatto sì che oggi tutte queste infiltrazioni non siano più presenti, quindi il patrimonio architettonico, artistico, qui conservato, è perfettamente tutelato, ma soprattutto è stata ripristinata la pubblica e privata incolumità del popolo dei fedeli che frequentano questa chiesa.